Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è cresce l'attesa per l'uscita di Pinocchio, il nuovo film diretto da Robert Zemeckis. L'account Instagram di Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha condiviso una clip tratta dalla pellicola fornendo un nuovo sguardo sul lavoro. Pinocchio, la clip tratta dal film.Dopo mesi di attesa, Pinocchio è finalmente pronto per fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming. Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha regalato al pubblico immagini esclusive con protagonisti Pinocchio e il grillo parlante. Pinocchio, i dettagli del film.Robert Zemeckis ha diretto il nuovo lavoro occupandosi anche della sceneggiatura insieme a Chris Weitz. La pellicola, basata sul romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, avrà nel cast Tomo Hanks e nei panni di Geppetto, Cynthia e Rivo in quelli della fata turchina e Luke Evans in quelli del Postiglione. Tra gli attori che hanno prestato le voci ai personaggi Joseph Gordon-Levitt e Keegan-Michael Key. Per quanto riguarda la distribuzione, Pinocchio debuterà sulla piattaforma di streaming, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, giovedì 8 settembre. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.